Buongiorno, siamo qui con Tiziana Crisafulli, sempre a Place in the Sun, Londra, secondo giorno della fiera. Buongiorno Tiziana, dimmi subito le tue impressioni di questa fiera. Aspetta, questa fiera è un'occasione importantissima per i nostri agitori familiari, e in particolare posso poter ringraziare G.I.I.T. per la nostra opportunità. Sto incontrando davvero questo mondo, tutto il mondo è di venditori, tutto il mondo è di investitori, e quindi è veramente una fiera intussante. Tu vieni da Agrigento, non credo ci siano altri exhibitor della Sicilia, quindi rappresenti la tua terra, la tua isola. Sarai orgogliosa di questo? Sì, effettivamente la mia spinta è stata la voglia di promuovere la mia terra. e so che sono la sola, addirittura, la sola della Sicilia, quindi questa è veramente un fattore di orgoglio per me, che mi spinge a organizzarmi per l'arco prossimo, ad avere uno stand più importante, che spero rappresenti ancora meglio la Sicilia. Bene Tiziana, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e bocca al lupo. Grazie a te. Grazie a te.